Siamo con Del Vecchio Giovanni e Davide Incerti, due giovani dell'Atletic, non sul campo ma giovani e raccontateci un po' come avete visto la partita, se vi siete divertiti. Divertissi sempre a giocare a calcio, però la partita non si è messa subito bene perché siamo andati in 5 minuti sotto di 2 gol però poi la squadra ha avuto una bellissima reazione e siamo riusciti a ribaltare il risultato, quindi grandi, continuiamo ad andare avanti così. Sì, contento per la vittoria, sapevamo che non era una partita facile, era un derby, quindi contenti, siamo contenti. Allora, condivido che non fosse una partita facile ma io ho visto un 2002 in campo che fa impressione dalla sicurezza con cui gioca. Che cosa mangi per essere così sicuro? Niente, io testa, sempre testa negli allenamenti, sempre concentrato. E cibo italiano, cibo italiano. E avanti così. Bene, mi hanno detto entretutto che a gennaio lascerai la compagnia e andrai a fare parte della famiglia del Genua. Bene, sì, sì. Contento, per una parte contento ma per l'altra no perché è stata questa, è la mia prima squadra qua in Italia che è la che mi ha dato l'opportunità di maturare in tutte queste cose qua, quindi contento. Bene, chiudiamo facendo gli auguri a tutti i lettori e chi ci vede di Settimana Sport. Vogliamo fare un corretto di Natale, no? Facciamo gli auguri di Natale e di Capodanno. Bene, auguri anche a voi e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a tutti.